Anche quest'anno Consiglio regionale entra in classe con uno strumento a supporto degli insegnanti. Si tratta dell'Agenda Scuola, inviata ai primi di settembre a circa 4.300 docenti delle scuole elementari, medie inferiori e superiori del Piemonte, che insegnano negli istituti che hanno visitato Palazzo Lascaris. Una sorta di diario per i professori, completo di calendario dell'anno scolastico, con brevi riflessioni su storia, educazione civica e attualità.